Ciao amici del Bosco, oggi potiamo e ci prendiamo cura del glicine. L'avete già sicuramente riconosciuto in questa impresa, mi aiuta Gianmarco Mapelli, l'amico delle piante che è tornato a trovarmi. Ciao a tutti, grazie Francesca, grazie di avermi invitato anche quest'anno. Come sempre ormai anche l'anno prossimo dovrò venire per forza e oggi ci prenderemo cura di questi due giovani glicini. Il glicine è una pianta molto interessante perché fa delle fioriture meravigliose quindi è proprio decorativa al massimo, ma è una pianta che si inserisce bene in un sistema agroforestale perché ha anche la capacità di fissare l'azoto, è una leguminosa e quindi va a distribuire nutrienti anche alle altre piante. Infatti qua sembra che ci siano sopra dei fagioli proprio perché fa parte delle leguminose, perciò anche il fiore e il frutto è molto simile a quello anche di un pisello, di una fava, di un fagiolo. I fiori del glicine si possono anche mangiare, sono commessibili soltanto i fiori, ma soprattutto interessano agli insetti. Infatti piace proprio a tutti il glicine, anche gli impollinatori. Se avete una pianta a casa lo sapete che quando è fiorita è piena di api, di farfalle. Quando si trova bene in un territorio vedrete che si espanderà anche troppo, però all'inizio ci vuole un po' per inserirla nel proprio sistema e soprattutto ha bisogno di un sostegno giusto? Esattamente, i primi anni bisogna cercare di supportarla, bisogna cercare anche di farla un po' rinvigorire perché come ogni pianta appena noi la mettiamo a dimora farà un po' fatica. Poi invece quando la tecchisce diventerà molto vigorosa e quindi il nostro lavoro sarà doverla contenere. Io sono partita con due piantine di glicine, una si è sviluppata di più, vedrai l'altra invece ancora è rimasta più piccola. Allora, le ho messe all'ingresso perché mi piace tantissimo l'idea di avere questa fioritura primaverile che accoglie le persone che vengono a vedere il bosco di Ogigia. Si, si è creato un bel arco proprio, si. C'è anche questa struttura che però è una struttura diciamo che è a termine, non potrà sostenerlo per sempre, quindi ti chiedo aiuto per gestire bene le mie piante. Qui abbiamo un glicine che è vero che è giovane ma inizia a essere già abbastanza strutturato. Infatti il glicine io lo considero un albero rampicante perché con gli anni fioriti crea proprio un fusto, una specie di tronco. Infatti la capacità rispetto ad altri rampicanti poi di un po' autosostenersi, almeno sul primo tratto, magari quello verticale in cui riesce a sgruppare un tronco che non ha bisogno poi di sostegni negli anni. Io vorrei una potatura che valorizza al massimo le fioriture. Voglio questi grappoli bellissimi. Come ogni volta che ci si approccia una pianta bisogna capire dove fiorisce e dove fruttifica. Ovviamente con gli alberi da frutto vediamo dove fa il fiore e di conseguenza ci sarà poi il frutto idem col glicine però quello che ci interessa è proprio il fiore. Il glicine ha due tipi di rami. Ha questi rami determinati quindi con crescita determinata che sono lunghi massimo 10-15 centimetri che sono quali proprio che portano le gemme che poi faranno il fiore. Quindi in primavera da queste gemme si svilupperanno i grappoli viola bellissimi. E poi invece c'è i rami indeterminati, qua ne abbiamo uno piccolo ma ce ne sono anche di molto più lunghi che invece sono i rami che proprio sono adibiti alla crescita della pianta quindi fanno tendenzialmente solo foglia. Se fanno magari un grappolo di fiore lo fanno alla base però invece tutto il resto serve per far foglia. Quindi noi dobbiamo orientarci in questa maniera. Con la potatura dobbiamo sicuramente a questo punto valorizzare quelli determinati che saranno quelli che porteranno maggiore fioritura. Come per ogni potatura la prima cosa che bisogna andare a fare è eliminare i rami secchi o i rami particolarmente danneggiati. Questi rami sono pezzi di pianta che la pianta ha già deciso di abbandonare di pretende con un'autopotatura o comunque che andrebbe poi a eliminare lei col tempo. Questo qua è molto danneggiato. Noi semplicemente andiamo a velocizzare la cosa. Lo togliamo noi così togliamo il disturbo a lei di farlo. La base si sono creati una marea di nuovi tralci che tra l'altro vanno anche forse ad interrarsi. Questi le dobbiamo lasciare o li togliamo? Allora se noi vogliamo produrre nuove piantine di glicine sono comodi perché possiamo fare la margotta, probabilmente questo qua ha già radicato. Perciò nel momento in cui ci siamo assicurati che ha fatto nuove radici noi le andiamo a tagliare e abbiamo una nuova piantina di glicine che poi possiamo spostare. Però in generale i rami alla base vanno si eliminati. Noi dobbiamo favorire il fusto principale e se noi abbiamo troppi polloni alla fine sono una specie di polloni questi qua alla base i nutrienti vanno qui e non riescono ad andare sopra. Perciò questi qua li possiamo andare a eliminare tutti. Anche in questo caso dobbiamo rispettare il collare di corteccia. Perciò la parte qua dove si differenziano i tessuti c'è un leggero ingrossamento e proprio qui andiamo a eseguire il taglio. Così facendo la pianta riesce a cicatrizzare meglio. Probabilmente qua tra un anno vedremo che questa ferita sarà già chiusa. Ne abbiamo lasciato uno soltanto perché tentiamo di vedere se sta attecchendo. quindi ci facciamo una nuova piantina e poi lo stacchiamo quando avrà fatto nuove radici. Sì, magari in bella stagione aggiungiamo un po' di terra lì così siamo sicuri che poi fa le radici e questo rametto si può tagliare in qualsiasi stagione. Puntiamo a fare una margotta di glicine. Che faccio qua Gianmarco? Questo lo possiamo considerare come un succhione perché noi comunque vogliamo seguire il fusto principale fin dove si dirama. Questo comunque nasce prima, andrebbe in competizione con questo fusto perciò lo andiamo a eliminare. Il glicine non ha bisogno di noi. Lui anche senza potatura riuscirebbe a crescere sano. Però ovviamente noi lo facciamo crescere sopra dei supporti quindi ogni glicine ha un po' la sua forma di allevamento. Quindi in primis dobbiamo capire cosa vogliamo fare. Il glicine ha anche la capacità, come dicevo prima, di autosupportarsi con un po' di anni. Quindi ad esempio i primi anni qua avete messo un supporto dopodiché non è più servito perché è riuscito a strutturare un fusto. Quindi c'è anche chi fa una forma di esempio obbligata del glicine, crea degli alberelli, quindi fa sviluppare il fusto e poi taglia tutti gli anni molto corto per creare un alberello che in primavera fa i fiori e poi tutte le estati comunque stai lì a potare i rami. Non è la forma che preferisco del glicine. A me piace farlo rampicare perché lui ama... è una pianta rampicante, ama proprio rampicarsi. Perciò adesso andremo a selezionare i rami che ci servono per proprio creare poi tutto l'arco e la struttura e gli altri cerchiamo sia di contenerli sia di valorizzare laddove magari ci sono dei fiori. Questo glicine ha tantissimi rami determinati che sono proprio gli organi fioriferi della pianta. Possiamo notare che più andiamo lontano dal fusto principale più questi organi diventano corti. Quei sono dei rametti che si sviluppano proprio per uno o due centimetri. Questo fa capire che la pianta sta perdendo vigoria perché ha moltissime gemme e non riesce a gestirle tutte. Qui i fiori saranno piccoli, saranno poco belli, dei grappoli molto piccoli. Perciò dobbiamo fare dei tagli di ritorno. Ad esempio qui, come minimo, dobbiamo tornare indietro. Perciò facciamo un taglio in corrispondenza di un altro ramo. Qua, anche qui, tagliamo il secco e andiamo a togliere questo. Perciò avremo un po' meno fiori ma molto più sani. Anche qui possiamo vedere che è una zona molto intricata dove avevano tanti rametti e la pianta già li sta facendo seccare. Questo è proprio l'indizio del fatto che qui ce ne sono troppi. Perciò il secco lo andiamo a eliminare. Quindi sicuramente andiamo a secondare la pianta. Ma anche qui dobbiamo fare per forza dei tagli di ritorno. Qui, ad esempio, abbiamo un organo fiorifero abbastanza bello. Andiamo a eliminare quello che c'è sotto. Qui abbiamo degli intrecci. Andiamo a eliminare questo qua che stava proprio in mezzo. andiamo a eliminare il secco e cerchiamo un po' di selezionare. Idem di qua. Qua torniamo indietro. C'è chi questi rami li lascia tutti perché dice qua fai fiori. In realtà no. Col tempo poi la pianta tende a seccare e fare fiori di minor qualità. E soprattutto poi se secca non va bene. La pianta non è contenta. Vuole stare bella, sana e giovane. Anche qui ci sono dei tagli di ritorno da studiare. Si potrebbe accorciare, per esempio, qua, ma avendo due rami si può decidere di lasciarne uno soltanto. Esatto. L'obiettivo comunque è quello di avvicinarci al fusto della pianta. Qui non si deve sviluppare troppo il glicine, perciò faremo un taglio di ritorno in cui lasciamo solo un ramo. E qui invece lasceremo qualche organo fruttifero. Quindi questo qua in basso lo togliamo del tutto, facendo un taglio di ritorno. E qui sopra accorciamo, anche qua. Qui direi Gianmarco di togliere tutto questo ramo che scende e torna indietro in questo punto. Assolutamente sì. Qui abbiamo un rametto che quest'anno ha già fatto i fiori. L'indizio sono proprio questi frutti. e possiamo notare che l'ultimo pezzo di ramo è seccato. Lo fa spesso il glicine, questo scherzetto. Quindi noi andiamo a cimare. Torniamo indietro su una gemma e qui riusciranno a svilupparsi tanti nuovi rami. Ai rami alti ci pensi tu, Gianmarco, che non hai bisogno della scala? Ci penso io. Qui abbiamo un ramo indeterminato, però si è sviluppato in un punto dove abbiamo un po' di vuoto. Qui non ci sono altri rami. Perciò possiamo andarlo a cimare, proprio per poi stimolare la pianta a fare nuovi rami. Quindi lasciamo un 6-7 gemme e poi andiamo a cimare. Da queste gemme, probabilmente l'anno prossimo, anzi la primavera che viene, si svilupperanno dei rami. Qualcuno, magari quelli in fondo, saranno sempre rami indeterminati, che poi andremo magari a ripotare, ma invece alla base si potrebbero sviluppare dei rami determinati che l'anno prossimo farebbero proprio i fiori. Qui, ad esempio, abbiamo anche degli intrecci. Nel glicine gli intrecci sono inevitabili. È una pianta che fa una forma abbastanza confusionaria. Però dove possiamo evitarli, li evitiamo. Quindi anche qui facciamo un taglio di ritorno e eliminiamo questo rametto. Qui, ad esempio, c'è un altro intreccio e possiamo farci caso che si stanno già ferendo le piante, perché quando c'è del vento c'è lo sfregamento. Perciò anche qui andiamo a eliminare, in questo caso è il ramo più giovane, che va proprio a intralciare la forma del glicine. Adesso abbiamo una forma molto più compatta della pianta, però noi non vogliamo che si fermi qui. Noi vogliamo che comunque continui a svilupparsi per creare proprio l'arco. Quindi questo ramo indeterminato lo andiamo a lasciare quasi per intero. Lo andremo solo a cimare qui in fondo per dargli comunque una rinvigorita, perché possiamo notare che comunque, come ogni ramo indeterminato, finisce con un ricciolino secco, che noi possiamo tranquillamente andare a eliminare. Torniamo un po' più indietro dove c'è una gemma più vigorosa, così in primavera riuscirà a rigettare meglio. Qui potete notare proprio il fine di ogni ramo che tende a seccare. Infatti dovete vedere che non c'è più niente di vivo qui dentro. Quest'altro glicine è molto diverso, è più debole, è cresciuto più in ritardo e poi ha fatto cose strane come mandare un ramo là sulla Tuglia. Eh sì, allora questo rametto forse lo andremo a tagliare perché noi non vogliamo questi arampichi sulla Tuglia. Però questo fa capire che comunque quest'anno è riuscito un po' a rinvigorirsi, quindi è riuscito a crescere parecchio. È come se fosse una pianta molto più giovane, nella fase più giovanile dove sta sviluppando ancora tanti rami e ha invece pochi organi fruttiferi, quelli produttivi che faranno poi il fiore. Quindi qua sicuramente faremo un lavoro simile e di andare a selezionare i rametti e poi invece dovremo capire come strutturare la pianta, quindi quali rami far sviluppare. Ah, qua ne abbiamo un altro che probabilmente viene da Margotta, un pollone, comunque è cresciuta un'altra piantina di glicine. Questa qua la mettiamo in un vaso. Qui non abbiamo ancora un tronco sviluppato, la pianta non è autoportante, però ha fatto questo andamento, ha assunto un andamento a spirale. Allora, noi possiamo comunque lasciare più rami. Qui è bella la spirale, poi comunque col tempo, anche se è questa forma spirale, riuscirà ad autosorreggersi. A volte si vedono anche dei glicini secolari con più fusti uno intrecciato sull'altro e quindi possiamo comunque lasciare due fusti principali che si sviluppano e poi ovviamente dobbiamo uscire dove farli terminare, perché qui arrivano su fino a tre metri e mezzo. Andiamo a liberare la tuia. È andata fino alla cima. Poverino. Però lo andiamo comunque a accorciare, perché in prospettiva questo qua prende più vigore. Qua tagliamo questo rametto, accorciamo qua. Qui abbiamo questo fusto principale che possiamo mandare su e poi questo qua che si è torcigliato bene, però poi qui va su e invece questi qua si vanno un po' a perdere. Quindi questi rametti li sfruttiamo per fare poi degli organi fruttiferi. Quindi li andiamo a cimare a 5-6 gemme, perché qui dobbiamo fare come di lì dei rami determinati. Perciò anche qui andiamo a fare delle cimature. Mentre questo qua che si sviluppa in verticale è il nostro continuo, che mandiamo su dritto ancora per un metro e poi anche lui li andiamo a cimare, perché si deve rinvigorire, perché anche lì ha fatto troppi rami. Quindi qua andiamo a vedere ogni ramo, contiamo un 5-6 gemme e poi tagliamo. I rami filmati da vicino sono sempre quelli che vengono tagliati peggio. Ti emoziona la cesoria. Anche qua 5-6 gemme. Possiamo tagliare qua. Qui invece facciamo un taglio di ritorno, tagliamo qua, perché abbiamo comunque indietro già un sacco di rami e quindi poi in prospettiva un sacco di fiori. Allora, qui abbiamo riempito un po' la pianta, quindi abbiamo fatto questi tagli che andranno a infoltirla qui in basso e a fare i fiori nei prossimi anni. E abbiamo solo due rami che vanno a creare un po' il continuo. Però noi vogliamo che l'arco si sviluppi in questo lato, perciò adesso andiamo a eseguire un taglio circa a questa altezza e andiamo a piegare i rami di qui. Qua li strichiamo ad agio e riprendiamo anche la curvatura, vediamo se riusciamo. All'incirca. Bello che va avanti un po' così intrecciato. Anche se sono due rami, col glicine non è troppo un problema. Stiamo facendo l'impalcatura. Io sto facendo l'impalcatura. Consigli per la struttura di sostegno del glicine. Io ho un mix di tronchi e canne, diciamo che è una struttura un po' precaria, va bene così, ma in generale cosa possiamo utilizzare? Il glicine con gli anni fa una struttura a sé, diventa proprio forte e addirittura il problema è che la struttura poi viene distrutta dal glicine, la stringe un po' come un boa, quel serpente è la preda e quindi il rischio è che se noi mettiamo una struttura esile, in pochi anni il glicine la spezzerà. Il glicine tende a rispettare di più il legno probabilmente per una questione evolutiva perché in natura cresce sugli alberi e non è sua intenzione ammazzare l'albero in cui sta crescendo perché nel momento in cui l'albero cade, cade anche lui. È una situazione che poi è diciamo obbligatoria, prima o poi cadrà la pianta con sul glicine, però ci mette degli anni. Se invece noi abbiamo il palo in ferro, già in pochi anni tenderà a stortarlo e sembra un po' un controsenso perché il ferro è più forte, però invece si è proprio visto che con gli anni il glicine tende proprio a rompere il ferro, perciò la struttura può essere anche di ferro, però noi dobbiamo sapere che diciamo quella struttura la andremo a perdere. Quindi niente ringhiere, se avete delle ringhiere di casa belle e ci volete far attorcigliare il glicine, meglio di no, altrimenti perdete. Il glicine non valorizza la ringhiera, prima di tutto perché la copre completamente e poi perché la va a stortare. Possiamo usare dei pali che devono essere di una sezione sopra i 20-25 cm. Lì si è visto che il glicine non riesce a romperlo. Primo perché un palo di 25 cm è un palo di una certa consistenza, ma soprattutto perché non riesce a far leva. Invece se il palo è piccolo riesce a torcerlo maggiormente. In alternativa, se noi abbiamo dei pali in ferro e abbiamo solo quelli, possiamo legare noi il glicine, non farlo attorcigliare, ma tenerlo dritto e supportarlo noi con dei legacci. Quindi, grazie a Gianmarco, oggi abbiamo imparato tutto sul glicine. Grazie a voi. Allora, e sappiamo che è una pianta che può essere di supporto all'orto. Abbiamo detto che è azototistatrice, quindi potrebbe diventare in realtà proprio una pergola per l'orto. Esatto. Pensiamo a qualche sistema agroforestale con il glicine. Sperimentiamo. Grazie di aver visto il video, grazie ancora a Gianmarco. Ci vediamo al prossimo. Ricordatevi il canale di Gianmarco, Gianmarco Mapelli. Ciao a tutti. Ciao a tutti.